Grazie e buongiorno e grazie di aver invitato l'Associazione Antiquari d'Italia della quale io sono presidente. L'associazione nasce a Palazzo Strozzi nel lontanissimo 1959, esattamente il 10 ottobre durante la prima importantissima mostra internazionale dell'antiquariato che i fratelli Beppe e Mario Bellini inventarono praticamente dal nulla. Sono due menti veramente vulcaniche che per questa prima mostra internazionale era che era in quel momento la prima al mondo, non ce n'erano altre. Oggi in associazione siamo circa 150 iscritti, selezionati e di provata competenza, iscritti alla Camera di Commercio e dalle Confederazioni Internazionali dei Mercanti di Opere d'Arte. Partecipiamo ad eventi culturali, promuoviamo lezioni e conferenze per affrontare la conoscenza delle antichità e del suo commercio. Attività questa che ha permesso la scoperta spesso di veri e propri capolavori dei quali si era persa traccia e la formazione di collezioni private, partecipando così a pieno diritto all'accrescimento del patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. Dal mondo antiquario, non bisogna dimenticarlo, provengono il Museo Bardini, il Museo Pol di Pezzoli di Milano, Palazzo d'Avanzati qui a Firenze, la Fondazione Horn, la Fondazione Romano, il Museo Civico Amedeo Lia alla Spezia e poi tanti tanti altri. Negli anni 90 siamo stati protagonisti nelle sale delle case d'asta di Londra, Parigi e New York nell'acquistare dipinti, sculture ed oggetti che abbiamo riportato in Italia. Nell'anno 2000, nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, con il beneplacito della sovintendenza ai beni culturali, abbiamo organizzato una splendida mostra intitolata Ritorni, proprio per sottolineare quella nostra speciale esperienza di ricerca e di recupero. L'Italia è il Paese che possiede un numero incalcolabile di opere d'arte di ogni genere, epoca e valore, caratterizzato nel contempo da un mercato asfittico e sottoposto a limitazioni di varia natura che gli impediscono di stare al passo con le realtà internazionali più avanzate. Per poter esportare, vi faccio un esempio, un dipinto antico esiste una procedura farraginosa e burocratica. Bisogna rivolgersi ad uno spedizioniere specializzato che a nome nostro chiederà un appuntamento presso l'ufficio esportazione locale, che di solito si potrebbe avere nel giro di 30 o 50 giorni. Poi bisogna fisicamente trasportare l'opera presso l'ufficio, che una volta presa visione deve mandare la foto a Roma al Ministero, che studiata attentamente entro un tempo di 40 giorni, mai definitivi possono essere 50 o 60, rinvia all'ufficio esportazione il percorso, il risponso, che potrà essere positivo, quindi esportabile, negativo, quindi notificato, oppure raramente una proposta di acquisto da parte dello Stato al prezzo dichiarato. I tempi, come si può notare, sono biblici. Un cliente straniero che volesse acquistare un'opera presso la mia galleria dovrebbe aspettare almeno tre o quattro mesi prima di poterla avere a casa. Naturalmente in netto contrasto con un collega europeo. Ecco perché il mercato centrale delle attività, delle antichità si svolge costantemente all'estero, con un giro di affari milionario. Bisogna poi ricordare che quando un'opera viene notificata perde il valore almeno del 50 al 70 per cento e diventa praticamente ostaggio della burocrazia. Per questa, per poterla spostare anche di qualche metro, devo chiedere un permesso che se mi verrà concesso, passeranno almeno 30 giorni, con una serie di obblighi da rispettare, assicurazione plausibile, cassa di imballaggio, trasporto con personale specializzato e con automezzi ben molleggiati e ciliegina sulla torta, tutta la manovra dovrebbe svolgersi al cospetto di un funzionario della sovintendenza che, come dichiara il permesso che mi ha concesso, dovrebbe assistere all'imballaggio e al disimballaggio dell'opera notificata. Praticamente dovrebbe viaggiare con il dipinto su un camion attrezzato. Questo prevede l'ufficio notifiche per poter solo spostare un'opera. Quindi lentezza ed assoluta mancanza di fiducia nei confronti del bene che, ricordiamolo, lo ha scoperto del proprietario, che lo ha scoperto, che lo ha praticamente restaurato, comprato con i propri soldi e fatto conoscere ai moderni qualificati critici d'arte, magari pubblicato ed esposto anche in qualche mostra. Nessuno più del legittimo proprietario conosce bene il valore e l'importanza di preservare e custodire attentamente un oggetto che appartiene per legge e gli appartiene oltre che per affetto e per competenza. Secondo me basterebbe una dichiarazione di volerlo spostare fatta via e-mail all'ufficio competente e senza attendere trasportare l'oggetto in questione, senza secondo parametri che un proprietario ben conosce ed applica a tutto vantaggio della buona riuscita del movimento. Vorrei poi proporre al nuovo nostro interlocutore, che è il ministro Franceschini, questa mia idea perché è vero che un oggetto notificato non possa essere venduto all'estero ma sul territorio nazionale dovrebbe poter circolare agevolmente, con sicurezza ed assicurazione adeguata. Si alleggerirebbero anche gli uffici pertinenti da burocrazie antiche ed inadeguate. Vorrei inoltre proporre una art bonus per tutti coloro che dovessero acquistare un oggetto notificato, una specie di sgravio fiscale per alimentare il commercio e la fruibilità. Si potrebbero in questo modo rivedere molti dipinti e sculture rimaste segregate per anni nelle case dei collezionisti e nelle gallerie antiquarie. L'articolo 17 del decreto legislativo del 2004 numero 42 così recita il ministero con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. Sarebbe stata un'eccellente manovra ma guarda casa tutto ciò non è mai accaduto con difficoltà oggettive per il commercio e per gli uffici ministeriali. Ricordiamo che nel 1977 Spadolini, l'onorevole Spadolini, in un convegno che fu fatto a Palazzo Strozzi, propose la stessa cosa. Il 1977. Potrebbe accadere, come è realmente accaduto, che un dipinto notificato in tempi remoti sia stato comprato da un antiquario senza essere stato messo a conoscenza del vincolo ormai dimenticato. Una volta richiesta la libera circolazione in buona fede dal commerciante ed essere stata anche concessa dall'ufficio esportazione con ignoranza dei fatti remoti, inizia un periodo di difficile sopravvivenza. Nel senso che una volta all'estero il dipinto, riconosciuto come notificato remotamente da un fantomatico critico d'arte, innesca una procedura di rientro e di recupero dell'oggetto facendo scattare una diabolica, ma diabolica, reato penale per l'antiquario esportatore con danno di immagine e naturalmente materiale, che in buona fede ha richiesto ciò che gli spettava e ancor peggio l'ufficio esportazione gli ha concesso con un macroscopico errore. Con un semplicissimo ed esauriente catalogo delle opere notificate si sarebbe potuto evitare il reato penale per il mercante e la figuraccia per il funzionario che non ha potuto riconoscere la notifica dell'oggetto non avendo avuto a portata di mano un elenco online di tutte le opere notificate. Il mercato antiquario origina un indotto stratificato e ramificato con coinvolgimento di decine di migliaia di professionisti, mercanti nel senso più antico e più nobile del termine, restauratori di ogni disciplina artistica, artigiani, tappezzieri, vetrai, orefici, case editrici di volume d'arte, case d'asta, compagnie assicurative, autotrasportatori, fotografi e tantissimi altri senza dimenticare un terziario importante nell'organizzazione di mostre, fiere ed eventi. Bisogna considerare il riflesso delle iniziative legate al mercato dell'arte sulla struttura e la stessa conservazione delle città e dei borghi italiani. Un fenomeno del tutto trascurato ma fondamentale per il paese. La presenza di botteghe d'arte italiane e negozi di antiquariato e di artigianato, di restauratori che si collocano nei centri storici, è determinante per mantenere viva la fisionomia contro nuove attività avulse dal contesto delle tradizioni cittadine e degli stessi residenti. Noi antiquari siamo i fruitori del patrimonio artistico fluttuante, quello cioè che dal commercio passa al collezionista privato e che spesso finisce venduto o donato a musei statali. Abbiamo superato molte tempeste, ricordo l'IVA al 35%, l'inflazione al 20%, le diverse crisi di corrente e da Firenze ci siamo concessi anche il lusso di un alluvione nel 1966 che ha devastato musei, chiese e le nostre gallerie. Vedremo di sopravvivere anche alle leggi e dei decreti attuativi che verranno. Con il nucleo dei carabinieri esiste un antico e solido rapporto, anche se una certa presunzione di colpevolezza accompagna sempre i loro atteggiamenti nei nostri confronti. Presunzione di colpevolezza. Un importantissimo passo avanti è stato il libero accesso alla banca dati del nucleo recupero patrimonio artistico. Con la loro efficace collaborazione possiamo sapere in tempo reale la legittima provenienza di un oggetto ancora prima di acquistarlo. Esiste anche un altro sito attraverso il quale poter accertare la bontà della transazione da effettuare, è Last Roast Register, che a pagamento fornisce ricerche e informazioni. Con gli uffici e esportazioni ci confrontiamo quotidianamente con dialoghi e scaramucce che accompagnano le nostre proposte e i loro tempi di lavoro, sempre un po' lunghi. Esportare significa far entrare danaro pulito e rigenerante per tutti noi, visto che dal 2008 una cappa di crisi ci sta impoverendo culturalmente e finanziariamente. In futuro diminuiranno i nostri numeri quantitativi e aumenteranno, ne sono convinto, i nostri numeri qualitativi. Tra le altre cose noi antiquari abbiamo un privilegio di vendere cose che non produciamo, che praticamente ci vengono dal passato. Quindi, paradossalmente, non creiamo nessun tipo di inquinamento sul pianeta. Argomento questo molto sensibile in questi giorni. Il tempo è una livella, come diceva il principe De Curtis in arte Totò. L'antichità resiste e si evolve dove la conoscenza e la cultura sono più radicate. Grazie del vostro gentile ascolto.